Misericordia e perdono, due pilastri dell'anno giubilare indetto dal Papa, due dei carismi più grandi di San Francesco d'Assisi che il 2 agosto del 1216 davanti ad Onorio III chiese ed ottenne dopo un'intuizione divina la remissione delle colpe per tutti coloro che si fossero recati nella chiesa della Porziuncola, ancora oggi visitata da milioni di pellegrini e anime in cerca di salvezza. Per questo l'arrivo di Papa Bergoglio nella cittadina Umbra il prossimo 4 agosto nel pieno delle celebrazioni per l'ottavo centenario del perdono di Assisi assume una valenza particolare, padre Enzo Fortunato. Un giubileo nel giubileo, è una felice coincidenza direi anche provvidenziale coincidenza, ma in fondo San Francesco ha sempre avvertito il battito della Chiesa e la Chiesa ha sempre avvertito il battito di Francesco. È come se Francesco ci dicesse guarda io desidero da te che l'atteggiamento della misericordia, l'atteggiamento del perdono sia talmente incarnato dentro di te che la finestra del cuore, che sono gli occhi, non debbano tradire questa esperienza e quindi un po' è l'epicentro spirituale che Francesco desidera non solo dai suoi fratelli, credo che su questo valore, sul valore della misericordia che non è solamente un valore umano o meglio è anche un valore umano, ecco si costruisce la società, si costruiscono le relazioni o meglio si ricuciano le relazioni. Ecco questa direi è la grande sfida del perdono di Assisi. Gioia e fermento in questi giorni tra i frati francescani, i cittadini, i pellegrini e tutta la Chiesa Umbra in attesa del Papa che porta il nome del loro amato Frate Santo. Una sosta breve di appena un pomeriggio, diversa da quella che il Pontefice fece il 4 ottobre del 2013 a pochi mesi dalla sua elezione e che molti hanno descritto come una sorta di iniziazione di un pontificato tutto improntato alla misericordia. Francesco stavolta pregherà nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli facendosi pellegrino in forma semplice e privata, poi offrirà ai presenti il dono della sua parola. Monsignor Rino Fisichella. Papa Francesco fin dalle sue prime battute ha parlato della misericordia e del perdono, anzi di come la misericordia sia la modalità con il quale il Signore perdona. Quindi Dio il padre non solo attende continuamente il figlio che ritorna a casa, ma questo figlio nonostante il peccato, nonostante il limite, le contraddizioni che ognuno di noi porta con sé, è in ogni caso amato, perdonato, avvicinato con tenerezza. Papa Francesco ha questa caratteristica fondamentale che il perdono, la misericordia è sempre coniugata con dei segni, con dei gesti che esprimono la tenerezza. La preghiera che Papa Francesco farà nella Porziuncola appare oggi più che mai come un provvidenziale strumento di pace per vincere la globalizzazione dell'indifferenza e l'odio cieco che colpiscono il mondo, ma quest'anno santo che ha già portato a Roma, afferma Monsignor Fisichella, 12 milioni di pellegrini, vivrà dopo quello di Assisi altri importanti momenti carichi di speranza. Ma la cosa ancora più bella è che ovviamente ai primi di settembre noi avremo, chiameremo a raccolta tutto il grande e vasto mondo del volontariato. Il Papa vuole dire il suo grazie a tutti e a ciascuno singolarmente, perché ci sono uomini, donne, giovani che quotidianamente nel silenzio, nel nascondimento offrono il loro tempo, offrono la loro vita, la loro persona per essere vicini agli altri, per consolare, per dare sollievo. Tutto questo grande e variegato mondo del volontariato si ritroverà qui a Roma il 2, il 3 e il 4 di settembre. Papa Francesco doterà una catechesi proprio sul senso, sul valore del volontariato e poi il grande evento offrirà a tutti loro e alla Chiesa in particolare l'immagine di una operatrice, mediatrice di misericordia come Madre Teresa.